Il 21, lunedì 21, la prossima settimana partirà anche il cantiere del parking da 600 posti lì a Barcola, per cui in questo momento il Porto Vecchio è partito. Parcheggio a Barcola, ci siamo. Oggi il sindaco di piazza ci ha annunciato che lunedì partirà il cantiere per i posteggi nell'attuale zona del terrapieno di Eccente Club Velici Barcolani. Il discorso del sindaco rientra in una più generale riflessione sull'intero Porto Vecchio, ma una volta lanciato con le progettualità in programma, di piazza ci ha dato anche un'ulteriore notizia. Oggi abbiamo fatto l'assemblea, è stato un momento importante, c'erano un sacco di debiti, c'erano circa 9 milioni di debiti, per cui ringraziamo veramente che è andata così. L'Austria commossa era comperato la fiera, con i 12 milioni sono stati sanati i debiti e in più ci sono rimaste anche delle risorse, per cui adesso anche lì ci sarà un investimento di 65 milioni. Tornando al Porto Vecchio e all'ESOF, il sindaco ha ribadito che anche il comune sta facendo la sua parte. 11 milioni e 7 è il progetto globale, 5 milioni e mezzo li mette il comune, di cui 4 milioni e 7 sono della vendita di ERA, delle azioni di ERA. Spesso sento parlare che con l'azione di ERA asfaltiamo la città, invece sono investimenti importanti. E' un investimento importante perché è un centro congressi da 2400 posti, poi avremo un luogo per fare le fiere, penso alla fiera del caffè, penso alla fiera dell'olio, tutte queste opportunità. E anche naturalmente perché il centro congressi, perché d'estate siamo pieni di turisti, d'inverno un po' meno, per cui l'opportunità di fare i congressi porterà anche tanti turisti e tante opportunità di lavoro. Infine la viabilità di Piazza Libertà. Adesso abbiamo due cose brutte, la ringhiera di Barcola che partirà come abbiamo detto la prossima settimana e Piazza Libertà. Faremo anche il sottopasso, lo farò tutto in acciaio cortenque, l'acciaio ruggine, così eviteremo tutte quelle scritte eccetera. E naturalmente ci sarà anche una viabilità diversa. Allora, la porta di casa nostra e poi spero in il prossimo futuro, con il passaggio dei magazzini al Teatro Verdi, e il Verdi ci ritorna la Trico e finalmente di abbattere anche quelle comostro.